Non solo top di gamma, questo è sicuramente uno dei temi dell'edizione 2012 del Mobile World Congress. Dalla Cina con furore, un appellativo che calza bene ai marchi come Huawei e ZTE, ma anche a brand come Alcatel OneTouch, marchio della famiglia della cinese TCL Communications. Posizionato in fascia entry-level, il marchio Alcatel OneTouch ha deciso di aggredire fasce più alte di mercato, senza tradire però il suo DNA. Il risultato più interessante è Alcatel OneTouch 995 Smart, smartphone full touchscreen con display da 4,3 pollici, 800x480 pixel. Interessante il cuore del terminale, rappresentato da una piattaforma Qualcomm 8255 a 1,4 GHz di clock, in grado di fornire ad esempio un'uscita HDMI per la visione dei contenuti del cellulare sui televisori ad alta definizione. Il telefono porta in dote Android 2,3 Gingerbread, ma Alcatel OneTouch lo dichiara aggiornabile ai Screen Sandwich. Sarà interessante vedere quale sarà in merito il supporto dell'azienda. Il terminale punta ad aggredire la fascia media di mercato con una veste high-end, posizionandosi tra i 250 e i 300 euro, se la roadmap è confermata a partire dal mese di aprile. Grazie a tutti.